È stata presentata l'ennesima edizione della Passione di Cristo, Actus Tragicus, ancora una volta protagonista, un evento importantissimo per Forio, non solo, anche per l'Isola di Schia. Ne parliamo con Giovanni Calise. Quali sono le principali novità di quest'anno e come vi siete organizzati? La novità di quest'anno è senza altro nella regia. Quest'anno abbiamo voluto rimarcare un po' il carattere popolare da cui è nata questa manifestazione della Passione di Cristo. Quindi siamo ritornati un po' a non affidandoci a registi in campo che fanno questo di mestiere, ma abbiamo voluto rimarcare l'azione popolare di questa manifestazione, dando in carico a Francesco Castaldi che è stato il Gesù storico di questa manifestazione e abbiamo voluto dare anche il giusto riconoscimento per il ruolo che ha ricoperto tutti questi anni. E quindi siamo ritornati un po' nella nostra popolarità della manifestazione. Ovviamente ci fosse qualcuno che magari non conosce la manifestazione, quindi come è strutturata, dove si fa, quando si fa, ecco, diamola qualche informazione in più. La manifestazione è giunta quest'anno alla sua 31esima edizione. Si svolge nel centro storico di Forio e è articolata su un percorso di circa un chilometro, partendo dal piazzale Marina d'Italia, arrivando al piazzale della Lucciola e poi percorrendo tutto il corso che sarà la via del Calvario, quindi tutto il corso del centro storico, fino ad arrivare al piazzale del soccorso, dove avranno le ultime scene più toccanti che saranno la crucifissione e la riposizione del sepolcro. La manifestazione si articola in circa 20 scene che vengono svolte in parte su palchi allestiti con scenografie nostre, su pellettili e con effetti audio e luci. In parte vengono invece svolte poi proprio la via del Calvario lungo le strade che giungono fino al soccorso. Quindi ci saranno scene sia visibili dai palchi e scene sia visibili proprio in mezzo alla gente, perché la particolarità di questa manifestazione è che il pubblico oltre ad assistere in quel momento diventa anche un po' parte integrante della manifestazione stessa. Ecco, c'è talmente una partecipazione importante dal punto di vista numerico che quest'anno, diciamo così, almeno nella presentazione che c'è stata, si è parlato soprattutto di sicurezza, maggiore sicurezza che negli anni scorsi, magari anche perché non vi aspettavate determinati numeri, era leggermente meno organizzato. Sì, diciamo che il fattore di sicurezza negli anni ha acquistato sempre una maggiore importanza, un po' perché siamo cresciuti noi come proprio manifestazione di per sé, perché prima abbiamo ampliato il percorso, il numero dei partecipanti sono aumentati, siamo arrivati a circa 200 persone che partecipano a questa manifestazione, tra figuranti, attori principali e secondari, comunque siamo sulle 200 persone, e in più sono anche una trentina di persone tra staff di montatori, smontatori, service e tanto altro. Soprattutto poi questa crescente della manifestazione siamo arrivati anche a vedere che sono cresciute le presenze a livello di pubblico, quindi siamo intorno alle 15.000 presenze e questo ci ha portato e imposto anche un po' dalle nuove normative ad curare molto questo aspetto della sicurezza, quindi ci saranno dei presidi sanitari con un punto medico avanzato di primo soccorso, grazie alla collaborazione con la Croce Russi Italiana, sede di Ischia, la quale è stata una tenda proprio di primo soccorso nei pressi del piazzale del soccorso, di fronte al vecchio ristorante del soccorso, quindi avremo un punto medico avanzato lì, perché poi abbiamo visto che lì è il punto più critico per la sicurezza delle persone. E poi ci saranno dei volontari, circa una quindicina, che hanno corsi specializzati in primo soccorso e quindi anche con kit di primo soccorso appunto. E poi ci sarà anche la collaborazione della Forio CB, la quale si assisterà sia per assistenza antincendio, perché ci saranno degli effetti scenici che riguardano il fuoco e effetti pilotecnici, quindi è importante anche la sicurezza antincendio, e sia assistendo le persone durante il percorso della manifestazione e presidiando le varie zone dove avvengono le scene, soprattutto dove sono i palchi e anche le vie di esodo, di accesso per consentire una buona riuscita della manifestazione in tutta sicurezza. Giovanni, proprio flash, un appello a chi ci segue, insomma isolani e non, di venire a vedere questa manifestazione. La manifestazione è di tradizione, quindi veramente invito tutti quanti a venire, perché noi ci lavoriamo tanto, ci teniamo molto e penso che ognuno che assiste a questa manifestazione si sente un po' partecipe e anche viene colpito non solo per la teatralità, ma anche per quello che trasmette questa manifestazione, perché negli anni passati abbiamo visto persone commuoversi durante queste scene, quindi invito veramente tutti a venire, a vedere questa manifestazione, perché penso che rispecchia molto la passione di Gesù veramente, il periodo pasquale. Allora, un altro aspetto importante che avremo quest'anno è che è stato istituito un infopoint durante la settimana santa, in collaborazione con l'Istituto Superiore Cristoforo Mennella, che sotto la coordinazione della professoressa di guida, illustreranno ai residenti e tanti turisti che speriamo arriveranno per quel periodo, il percorso della passione, come si svolgerà la manifestazione, non solo in italiano, ma ben quanto lingue diverse.